Joe Biden ha puntato molto su questa guerra e sul risultato di tale guerra, di conseguenza lui vuole classificare, posizionare la propria presidenza come se fosse una reedizione del periodo della seconda guerra mondiale, quando c'era il presidente Roosevelt, perché storicamente i presidenti di guerra sono più amati dagli americani, sono più sostenuti. Non so se questo sia vero ancora ai giorni nostri, però è l'idea che lui si è fatto, di conseguenza vuole che questa guerra continui, siccome ormai è abbastanza chiaro che non è verosimile che l'Ucraina possa vincere la guerra o possa avere dei risultati eclatanti che ribaltino la situazione, lui vuole che si prosegua perlomeno fino al 2024, fino a quando non verrà rialetto. Una fine, tra l'altro ingoloriosa per gli ucraini, della guerra prima di quella data sarebbe un problema, una catastrofe dal suo punto di vista, quindi dal punto di vista estrettamente elettorale. Il complesso industriale militare vuole fare continuare la guerra il più lungo possibile perché ci sta guadagnando un sacco e ci continuerà a guadagnare parecchio in futuro. In più, il fatto di essere in un regime di guerra consente ai politici di erodere gradualmente le libertà, le poche libertà che restano all'interno degli Stati Uniti, cercando di ridurre sempre di più la libertà di parola e cercando di imbrigliare in qualche modo l'economia verso quello che è il grande passo che stanno cercando di realizzare, vuole dire la transizione verso un dollaro digitale, che a quel punto porterebbe un sistema di controllo in stile cinese negli Stati Uniti. Quindi in questo caso lo sparacchio della guerra è sempre stato un elemento forte, visto che ormai quello della pandemia si è esaurito e di conseguenza vogliono portarlo avanti il più lungo possibile. Grazie. Grazie.